Una partita importante, un palasport importante e almeno dall'area che si respira un pubblico importante. Siamo contenti veramente di giocare questa partita a Conversano, in Puglia, perché al di là di tutto è tanto tempo che non hanno la Nazionale in casa, per cui ci sarà parecchia gente, siamo contenti che ci daranno una mano, ma siamo contenti anche per loro perché meritano una partita della Nazionale. Anche dal punto di vista personale è una piazza dove ti sei tolto pure qualche soddisfazione? Sì, veramente sono stati tre anni bellissimi, vincenti e soprattutto molto importanti per la mia carriera, per cui sono grato a quest'ambiente, a tutta la città di Conversano e alla società. Mi fa veramente piacere giocare qua. Focus sulla partita, la nostra avversaria arriva dal 14esimo posto ai campionati europei, però pensiamo a noi, noi arriviamo dalle due buone prove contro il Belgio e da tre vittorie consecutive, considerando anche il ribaltone contro la Turchia. Sì, è il trend positivo di questa Nazionale che ha sempre pensato di avere non l'obbligo, ma il dovere di vincere anche con chi è di sopra di noi al ranking. C'è riuscita in queste due fasi precedenti di questa qualificazione e ora chiaramente affrontiamo una squadra che sulla carta è ancora più forte della Turchia e del Belgio, però non dobbiamo piangere perché stavolta il sorteggio non è stato male e ci poteva capitare peggio. A parte gli inserimenti, il rientro di Dapiran nella lista dei convocati, l'inserimento di Sontacchi che avevi già visto in Germania, è una Nazionale che va in continuità, forse anche giusto così dopo quello che ha dimostrato. Sì, è vero, hai ragione. Oltre a questo c'è anche un altro aspetto. Noi abbiamo lavorato tanto, ormai sette anni fa, per poter costruire piano piano una squadra, inserendo molti giovani. Ora però non era più tempo di cambiamenti perché non si può sempre cambiare. Poi bisogna seguire la strada che ci ha portato fino a qui, dare merito a chi ha vinto con Turchia e Belgio. L'innesto di Dapiran che non è uno nuovo, quindi c'è sempre stato. È semplicemente una scelta tecnica perché rispetto a Arceri può dare una variante in più difensiva. Questo è l'unico motivo. Riguardo a Sontacchi insieme a Romei sono secondo me i pivot del futuro. Pozzer è stata un'esperienza sfortunata perché Poverino si è infortunato in un riscaldamento e anche se adesso stava riprendendo non è al 100% per cui spazio a Sontacchi. 120 minuti come nelle precedenti tornate di qualificazione, di queste qualificazioni mondiali, ma per la prima volta giochiamo con il ritorno fuori casa. Che cosa cambia e se cambia qualcosa nei piani dell'Italia? Ma indubbiamente cambia perché abbiamo visto come la seconda partita sia importante giocarla in casa, in un'atmosfera come quella di Pescara o di Chieti. Figuriamoci giocare la seconda partita a Polgorica. Chiaramente però cambia anche la partita dell'andata perché noi contiamo di dare il massimo in questo contesto e prepararci mentalmente ad affrontare una seconda gara che sia a punto aperta. E soprattutto il nostro obiettivo nella prima partita è cercare un risultato che possa dare pressione al Montenegro. Grazie per la visione!